Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it slash minori www.gpd.it